Vertice in prefettura Novara con i sindaci della zona per fare il punto sul rogo dell'azienda Chemi di San Pietro Mosezzo. Dostante l'alta colonna di denso fumo nero che si è alzata ieri, sin dalle prime ore del mattino, l'impatto dal punto di vista ambientale sarebbe stato limitato. Sarà comunque la magistratura a verificare le cause dell'incendio. Ancora sotto sequestro l'area interessata dalle fiamme.